Prima nazionale al Gela del film Vento di Sicilia, produzione indipendente per la regia di Carlo Fusco. All'evento hanno partecipato gli attori principali che compongono il cast della pellicola, che ha vinto già tre premi al Festival Internazionale Mendicio di Cosenza, giunto all'ottava edizione. Presente è anche Luigi Maria Burruano. La pellicola successivamente sarà proiettata in molte sale cinematografica nel nord Italia e a Milano. Bisogna dire grazie, bisogna dire grazie alla città di Gena perché ci ha accolto quando noi giravamo e ci accoglie ancora adesso che siamo qui presenti, con grande affetto e con grande gentilezza. Il film Vento di Sicilia è nato senza nessuna contributa, per cui io lo definirei un film di passione. Il regista e gli attori hanno dato tutto quello che potevano dare, con passione e grande volontà. Un'altra lampadina su un mondo a noi sconosciuto. Questa è la magia di questo film, secondo me. Illuminiamo una certa spaccata di umanità a noi, insomma, dalla gente normale voglio dire che siamo molto, molto lontani. E credo che questi film di questo tipo interessino il pubblico appunto perché scoprono dei mondi nuovi, incredibili, allucinanti, dico. E contribuire in questo sentiero anche per me è un motivo di soddisfazione. Sono molto sorpreso di grande organizzazione e di grande entusiasmo. Sono curioso di vedere film perché non ho visto tutto. Secondo me, al mio parere, il regista Carlo Fusco è un regista per il cinema d'autore. Siamo felici di essere qui, di fare la prima nazionale qui. Chiaramente parliamo di un film indipendente, low budget, quindi non è un colossal, anche se c'è un bel cast. Già qualche critico, sono uscite alcune recensioni che parlano di stereotipi, però me l'aspettavo, è normale, è normale. La città ha risposto bene, è un progetto che abbiamo, ci tenevamo tutti di concludere e di dare una bella gioia alla città, un regalo per questa prima nazionale. Speriamo che il film mi piaccia, la gente vedo che è venuta tantissima, numerosissima. Quello che dico dalla critica mi aspetto soltanto delle note positive.